Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale di ricette. Questa settimana abbiamo deciso di preparare una ricetta davvero deliziosa, il burro di arachidi. Esatto, vi mostreremo come realizzarlo in pochissimi passi e vi proporremo anche qualche idea su come accompagnarlo. Sarà perfetto per le vostre colazioni, andiamo a vedere come si realizza. Per prima cosa sbucciamo 400 grammi di arachidi, dopodiché le distribuiamo in una teglia ricoperta con carta da forno e le tostiamo nel forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10 minuti. Dopo 10 minuti trasferiamo le arachidi ancora calde in un frullatore con le lame a esse. E cominciamo a frullare. Le arachidi ci impiegano poco tempo a rilasciare il proprio olio contenuto all'interno, quindi già dopo un paio di minuti assumeranno una consistenza cremosa. A questo punto basterà continuare a frullare fino a raggiungere la consistenza desiderata. Ora potete insaporire il burro di arachidi con mezzo cucchiaino di chiodi di garofano in polvere e un cucchiaino di zenzero in polvere e anche mezzo cucchiaino di sale. Il burro di arachidi speziato è pronto. Potete trasferirlo in un barattolo di vetro e conservarlo nella dispensa anche per un mese. L'ideale è servirlo su delle fette di pane di grano saraceno tostate. La ricetta del pane potete trovarla sul nostro sito, vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto. Se invece non volete preparare il pane potete anche servire il burro di arachidi come snack con delle carote per esempio oppure con del sedano. Ecco il burro di arachidi speziato pronto per arricchire le vostre colazioni. Avete visto quanto è semplice realizzare il burro di arachidi? Se questo video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e attivate anche la campanella delle notifiche. In questo modo non vi perderete nessuna delle nostre ricette. E diteci qui sotto nei commenti con che cosa accompagnerete questo delizioso burro di arachidi speziato. Per oggi è tutto da DNA, noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti, ciao! Ciao!